Un giriverghe super esce da Carpenedolo con una prestazione da grande squadra, battendo 2-0 i rossoneri grazie a Minessi e Tanghetti. La prima frazione è equilibrata così come il risultato che si sblocca con un guizzo targato Minessi. Al quindicesimo il 9 riceve da Bresciani, mette giù la sfera e è ingirata a buca Benedetti. Le altre chance sono sempre targate Cili. Prima Ricciardi viene fermato da una grande parata di Benedetti, poi Minessi manca di poco la porta di testa. Il secondo tempo regala emozioni opposte, il Carpenedolo attacca e Giallo-Blu difendono con le unghie e con i denti. Le occasioni sono infatti degli uomini di Imberardi. Al nono il tiro insidioso di Minotti è respinto in angolo da Vigilati. L'uno ospite rimane però spettatore nelle chance successive in cui i legni salvano due volte il Cili Verge su due incornate dell'ex di turno Bosio. Il Carpenedolo ci crede nella volontà di trovare il pareggio si sbilancia e viene punito. Tanghetti supera metà difesa e piazza nell'angolino grazie ad un grande tiro a giro che regala lo 0-2. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro chiude l'ostilità e consegna 3 punti al Cili con i giallo-blu che torneranno in campo domenica. In casa contro il Falco alle ore 15.30.